Mary Jane ASMR ciao ragazzi ciao anime belle bentrovati come state ragazzi? spero tutto bene probabilmente farà ancora tanto caldo tanto caldo tanto tanto caldo ma noi ci rilassiamo comunque con i nostri amati video ASMR ragazzi l'unico trigger che oggi accompagnerà questo video è la mia voce quindi oggi la sfida sarà accompagnarvi nel sonno con solo la mia voce per farlo ho preso ho preso questa scatolina che in passato l'avete già visto sul mio canale e anche qualche volta in live questa scatolina contiene le più belle fiabe dal mondo sono 32 mini fiabe ossia short fiabe provenienti provenienti da ogni parte del mondo composte in delle carte come delle carte da gioco anche se non lo sono e io le andrò a mescolare quindi sentiremo anche quel trigger in realtà però prevalentemente il video sarà in whispering sarà tutto in whispering sussurrato quindi mentre io per farvi addormentare vi leggerò queste short fiabe quindi mettetevi comodi e spero che la mia voce vi mati completamente tra le braccia tra le braccia tra le braccia di Morfeo andiamo ad aprire la scatola le carte si presentano così come potete vedere ogni carta ha la sua fiaba la sua storia ora io le vado a mescolare e le peschiamo qualcuna a caso e la peschiamo direttamente davanti alla telecamera la prima fiaba che andiamo ad estrarre è perché i corpi sono neri ed è una leggenda in questo caso degli indiani d'America tanto tempo fa tanto tempo fa i corpi erano bianchi gli uomini allora cacciavano i bufali e i corpi che erano loro amici davano sempre l'allarme per farli fuggire tra i corpi ce n'era uno enorme che era la loro guida il capo del villaggio propose di catturarlo per dargli una bella lezione mise una pelle di bufalo con la testa e le corna attaccate sulla schiena del nipote e lo fece nascondere tra i bufali quando i cacciatori arrivarono e i corpi diedero l'allarme rimase solo il giovane che riuscì a catturare il corpo e lo legò a una pietra uno dei cacciatori arrabbiato lo gettò nel fuoco la corda si bruciò e il corpo fuggì con le penne carbonizzate promise che i corpi non avrebbero più avvisato i bufali e da allora sono tutti neri se vi piace questo genere di video ve lo porterò altre volte ragazzi un video totalmente al whispering merita secondo me vi va dedicato ne peschiamo un'altra di fiaba di short fiaba mi sta traendo questa ragazzi mi sta traendo questa qui che la vedo dallo scarbo della videocamera l'orco Nung Guama eccolo qui fiaba proveniente dalla cena c'era una volta una donna che mentre portava delle focacce ad alcuni parenti incontrò l'orco Nung Guama con il corpo di toro denti affilati e occhi di brace che le gridò dammi le focacce lei rifiutò e lui grugnì allora verrò a mangiarti la donna fuggì e si mise a singhiozzare sulla porta di casa passarono di lì vari venditori che le consigliarono di mettere sulla porta venti aghi da lana di spargere delle tame sulla soglia nascondere due salventi velenosi in una brocca dieci uova nella cenere del focolare una pietra da mulino sopra il letto e di tenere con sé un martello l'orco si punse con gli aghi scivolò sulle tame e fu morso dai serpenti poi le uova gli scoppiarono in faccia la macina li cadde in testa e la donna lo colpì con il martello uccidendolo strana questa fiamma ragazzi proveniente dalla cina peschiamo Leonardo sempre davanti a voi davanti alla videocamera davanti alla videocamera che vi andrò a leggere la terza fiamma che vi andrò a leggere proveniente da la terza fiamma che vi andrò dalla Svezia dalla Svezia c'era una volta un re che aveva una figlia di nome Rosellina si risposò con una donna che aveva anch'essa una figlia chiamata Letaccia un giorno un giorno Rosellina incontrò tre colombe e offrì loro del pane la resero bella il doppio le diedero fili d'oro per capelli e le fecero uscire perle dalla bocca quando rideva la madrigna mandò nel bosco le daccia che cacciò via le colombe e si ritrovò ancora più brutta con un rospo in bocca ogni volta che parlava Rosellina fu cacciata e arrivò ad una spiaggia dove fece amicizia con un corvo un pino e un usignolo un giorno un principe si innamorò di lei e la portò nel suo palazzo insieme ai suoi amici la madrigna la trasformò in un oca d'oro ma il cerbo e l'usignolo presero aghi di pino per farla tornare normale così Rosellina sposò il principe bene questa ha degli etofine ragazzi un po' come biancaneve o la bella addormentata nel bosco peschiamo una altra passiamo credo alla quarta via fiaba perchè se non vi siete ancora addormentati dobbiamo continuare assolutamente prova d'amore ragazzi prova d'amore fiaba proveniente dall'africa andiamola a leggere subito c'era una volta una principessa ammirata da tutti in molti offrivano gioielli tessuti preziosi e noci di cola nella speranza di sposarla ma lei non sapeva chi scegliere propose così al padre di dire che era morta morsa da un serpente il re fece suonare i tam tam e iniziarono le danze funebri arrivarono i pretendenti della fanciulla che chiesero di riavere i loro doni per ultimo giunse un giovane povero disperato per la morte della principessa lui l'amava ma non si era sentito degno di lei desiderava però che fosse bella anche nella tomba così aveva portato stoffe e noci per lei commosso gli rivelò mia figlia è viva e ora so chi l'ama davvero questo giovane diventerà il suo sposo si celebrarono le nozze e vissero felici e contenti anche questa è molto carina proveniente dall'Africa questa fiaba andiamo a prendere l'ultima peschiamo 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 il cavallo il cavallo e il fiume il cavallo e il fiume il cavallo e il fiume fiaba anche questa come una delle precedenti che vi ho letto poco fa proveniente dalla cena c'era una volta un cavallino che non era mai uscito dalla stalla un giorno la madre gli chiese di portare un sacchetto di grano al mulino lungo il cammino trovò un fiume e si fermò lì vide un vecchio bue e gli chiese se poteva attraversare il fiume certo l'acqua mi arriva appena al ginocchio rispose uno sgogliattolo però lo ammonì non passare il fiume profondo un mio amico ieri è annegato il cavallino allora andò a chiedere aiuto alla madre che gli disse figlio mio usa la testa il bue è grande e pensa che il fiume sia poco profondo mentre lo scogliattolo è piccolo e pensa invece che sia molto profondo il cavallino allora tornò al fiume e scoprì che non era né poco profondo come diceva il bue né troppo profondo come diceva lo scogliattolo e lo attraversò questo ci fa capire che esistono vari tipi di punti di vista differenti a seconda delle varie situazioni della vita io spero che questo trigger di oggi ossia la mia voce vi abbia fatto addormentare o quantomeno vi abbia rilassati un po' tutti io vi do appuntamento al prossimo video grazie ancora per essere rimasti con me fino alla fine di questo video vi mando un bacio vi mando un bacio tante carezze e una serena serena serenissima serenissima buonanotte anime bella ciao alla prossima alla prossima